Allora, Squillaccio, estate 2019, l'assessore alla programmazione e al turismo Franco Caccia. Quest'anno il comune di Squillaccio si sta prodigando per facilitare la visita dei turisti e di chi vuole scoprire Squillaccio con l'istituzione di un punto di accoglienza. Sebbene insediati da poche settimane abbiamo come amministrazione comunale inteso da subito dare un segnale chiaro di una comunità che vuole creare nuove condizioni e migliori condizioni perché vengano turisti e soprattutto perché i turisti che vengono possono trovare persone in grado di illustrare e orientare al meglio per una visita che sia particolarmente soddisfacente e oserei dire unica perché Squillaccio è unico nel panorama quanto meno ragionale, dobbiamo essere convinti tutti e quindi abbiamo avviato già una serie di iniziative che riguardano una programmazione che punta a valorizzare i luoghi, che punta a promuovere cultura perché un posto non deve vivere di renta, di posizione. Quindi accompagnatori turistici, visite guidate, quindi fruibilità piena dei siti storici ma anche iniziative culturali e in un certo senso anche social. Per esempio questo concorso fotografico. È vero, una delle ultime iniziative è proprio questo concorso fotografico che poi diventerà anche una mostra e nasce proprio dall'idea di stimolare anche tra i cittadini ma anche tra i turisti che visiteranno e saranno presenti nel nostro territorio delle foto che potrebbero eventualmente anche diventare una cartolina di Squillaccio. Grazie